Come informa al sito trebimeteo.com, dal 5 marzo tornerà al freddo. L'anticiclone si allungherà verso il Regno Unito e l'Islanda a partire da giovedì e lungo il suo fianco destro, correnti fredde di matrice artica, si metteranno in moto verso latitudini più meridionali, irrompendo sull'Europa centrale, puntando anche l'Italia. Raggiungeranno l'arco alpino tra giovedì e venerdì precedute da un richiamo di correnti sud-occidentali sul Mediterraneo centrale che trasporteranno aria umida verso le regioni tirreniche, dove si avvertiranno i primi sintomi di un peggioramento con piogge sparse che coinvolgeranno anche buona parte delle regioni settentrionali. Nel weekend il fronte freddo irromperà sull'Italia, apportando un peggioramento più generalizzato con fenomeni in estensione dalle regioni settentrionali verso il centro-sud, destinati soprattutto al versante adriatico. Le temperature subiranno una diminuzione, anche sensibile, tornerà a nevicare sulle Alpi a quote prossime ai mille metri, anche se al nord le condizioni tenderanno a migliorare. L'instabilità si sposterà invece sulle regioni centro-meridionali, con la neve che cadrà in appennino anche fino a mille metri di quota.